hola love niente via volevo ho una postazione diversa come vedete ma non riesco a trovare la che faccio lo sta oddio forse c'è sta non mi devo muovere troppo allora ciao belle ciao bellici merda fatemi almeno chiudere lo sportello anche perché sto telefono è veramente imprecariato molto molto pregario è giusto giusto un minimo di decenza oramai sono diventata una youtuber serie quindi cioè ok questa è la mia serietà dunque allora mi sono fatta uno truc di quelli strong mi sono fatta pure il naso un po più fino e mi sono fatta uno smoky devo dire che non poteva venire meglio pure questo però fra poco se magna quindi insomma ho fatto una cosa un po veloigiotta però devo dire che ed ho usato la palette della kiko la smart quella con tutti matt a rigamme questa palette mi sta a fan pazzì cioè è eccezionale ci sono dei colori bestiali e veramente boh grande palette gli ombretti va boh durano un'eternità oramai le orecchiette non possono mancare anche se alla mirna non piacciono oramai le orecchiette sono il mio oddio così c'ho un naso pure storto ciao sono il mio come si dice quando uno c'ha una cosa che il mio avete capito ora non mi viene sono il mio segno di riconoscimento meniamolo così perché le vere youtuber se le mettano solo per truccarsi io invece me le lascio dunque allora questo è un video che volevo fare perché le sto testando da cioè mi sono messa sotto a testarli di brutto e visto che ci sono rimasta un po così spaisata ho detto boh faccio un video alla le ciglia finte tanto me lo chiederete tutte cioè guardate cosa non sono sono della lotus della lotus lashes non si vede una minchiotta frotta e sono le numero 308 non vedete niente comunque sono queste sono bellissime dunque allora in questo video tanto l'avrete visto dal titolo parleremo dei nabla allora chi mi segue su instagram io vorrei che qualcuno di voi mi aiutasse a mettere il cosino di instagram nei video cioè io quando inizia il video vorrei mettere qui qua giù in basso il cosino di instagram ma non mi riesce non so come si fa quindi non lo metto se qualcuno di voi mi può aiutare ben venga chi mi segue su instagram sa che comunque io in questi giorni li sto testando perché l'altra sera per puro caso mi sono messa anarchy che mi ha sconvolto perché non mi è durato quasi niente e quindi ci sono rimasta come una becca frezza anche perché comunque non era la prima volta me lo mettevo l'avevo già usato me l'ero già messo e comunque non era durato così poco anzi mi era durato devo dire abbastanza non so se era la combinazione dei fondotinta che vedevo di non lo so fatto sta che stavolta anche il baking non mi sono fatta troppo contouring strano e e quindi ho detto babbo testiamo questi nabla allora io ne ho soltanto quattro quindi io vi parlo per quelli che ho non voglio menzionare cose che non so e non conosco quindi io vi parlo solo dei prodotti che ho e che ho testato allora io tre della vecchia collezione se ho capito bene non vecchia però prima dovrebbero essere usciti questi due nude che sono stronger stronger quando dico stronger mi viene in mente la canzone una canzone che non mi ricordo neanche io però mi viene in mente stronger e mi del karma e poi è uscito cocò e poi l'ultimo uscito è lui allora dunque naturalmente sulle labbra ho stronger che adoro io questo colore mi piace alla follia veramente mi piace tantissimo allora parte partiamo dal fatto che io adoro i mortaccini e ultimamente non riesco ad usare niente che non abbia questo tipo di colorazioni cioè marrone scuro marrone chiaro però marroni freddi non tendenzialmente non tendenzialmente rosati ecco che si vanno insomma tendenzialmente nude freddi e se non sono appunto mortaccini o vado sui rossi scuro rossi proprio sangue scuro oppure sui viola scuro questi sono i colori che io sto usando in questo inverno non c'è versi di farmi entra in testa di mettermi un'altra cosa anche perché me la metto ma non riesco a vedermi per niente allora stronger lo adoro perché ha una punta di grigio e a me questo colore mi fa morire è uno dei colori secondo me più belli e più portabili perché comunque sia a parte che è proprio bello cioè io non so se lo vedete o quanto è bello sia se siete stratruccate come se ho stratruccato io stasera se avete un trucco leggerissimo come solitamente ho la mattina alle 8 la mattina alle 7 di mattina la notte alle 10 questo è un colore passepartout cioè questo è un colore ve lo potete permettere sempre questo microderma mi sembrava stesse meglio invece da lontano mi sembra un po rossuccio poi abbiamo mid del karma che invece è un nude un po più tendente al rosato cioè allora non è rosato però è più caldo rispetto a stronger e poi va boh abbiamo coco che è uno dei secondo me marroni più belli che esistano allora allora parliamo della texture la texture è fantastica di questi tre la texture di questi tre è eccezionale non la si sente sulle labbra non appiccicano non non fanno spessore non crepano niente allora comunque ve li swatcho ve li faccio vedere so che ne aprite fin sopra i capelli quindi non voglio fare una recensione troppo noiosa nel senso tanto oramai cioè boh ciao l'avete visti rivisti sentiti parlare cioè giusto per farvi dei colori giusto per capire di che si parla e basta allora questo è stronger ed è questo poi abbiamo anche l'odore è fantastico abbiamo mid del karma vi lo sto a registrare e poi abbiamo coco eh cioè mi hanno occupato la camera qui ce la organizziamo sì allora eccoli qua questi sono i tre colori questo è come vedete quello sulle labbra tendenzialmente più grigiastro questo è più rosato e poi c'è coco che c'è non so se si riesce a vedere è un marrone che sembra un marrone che sembra rossastro che ha sotto che c'è come ve lo spiego che sembra un rosso scurissimo invece poi è un marrone soltanto marrone intenso cioè veramente 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 bellissimo allora come vedete anche dalla differenza di stronger dalle labbra allo swatch c'è differenza perché come tutti i lip che tendono comunque ai grigio cambiano colore anche quello della mulac vanguard se faccio lo swatch sul braccio e poi me lo metto sulle labbra il colore è leggermente diverso e questo è lo stesso coco no perché chiaramente è una colorazione talmente scura che sbabbè cioè copre qualsiasi cosa però gli altri cambiano secondo me leggermente anche a seconda delle labbra allora sono tre colorazioni pazzesche bellissime e con una texture fantastica allora karma middle karma è stronger allora a me stronger mi regge tantissimo questo ce l'ho su da tutto il giorno me lo sono semplicemente ritoccato perché mi sono ritruccata un po' anche il viso ma altrimenti non era da ritoccare stronger non si era mosso io ho mangiato fumato e bevuto e come sapete se i lip reggono a me reggono a tutti perché veramente io non avendo mai portato rossetti o comunque robosi cioè sono una persona che tendenzialmente non li sa portare quindi se rimangono addosso a me vuol dire che rimangano addosso a tutti perché io sono proprio una cafona numero uno e non riesco a stare attenta anni ecco mi si è spostata e non riesco a stare attenta quando ho i prodotti sulle labbra quindi quando reggono a me vuol dire che reggono al mondo intero cioè i capelli sono lavati di ieri di ieri cioè io ve lo vorrei ok far notare allora veniamo poi a invece Mid del Karma allora Mid del Karma lo stesso a differenza invece di Browen Arrow di Kat Von D che a me non dura una sega questi due a me durano entrambi moltissimo a differenza dello scuro allora secondo me io dico sempre secondo me questi di Nabla i chiari durano molto di più mentre quelli un po' più scuri tendono ad avere dei problemucci mentre quelli di Kat Von D io a parte con quelli di Kat Von D mi sono trovata malissimo perché Blowen Arrow non mi regge niente Insani chi si chiama insomma quello viola per carità di Dio quindi cioè c'è tante ragazze che mi dicono che si trovano bene secondo me sono dei lip che non non meritano io avrei voluto fare un video sui lip però non avendo i miei seri e quelli veri lip non ho potuto però casomai se riesco ve lo faccio su quelli che ho abbiamo i nostri color drain che non si smuovono di lì neanche gli L.A. Splash non sono per quanto le colorazioni siano meravigliose le L.A. Splash è lo stesso non hanno un'ottima durata però comunque il prezzo è basso mi del karma devo dire si chiama così sì che anche questo a me mi regge tantissimo si danno benissimo sulle labbra allora tendono ad essere un po' liquidini però quando te le vai a dare non strabordano non entrano nelle pieghe perché non so se ci avete fatto caso quando alcuni lip sono troppo liquidi e ve le date tendono ad entrare nelle pieghette delle labbra quindi nel contorno labbra se non ci date una matita o qualsiasi cosa che blocca il lip il lip migra invece questi sono spettacolari non c'è bisogno di matita non c'è bisogno di primer non c'è bisogno di niente a me mi durano a palla quindi se volete fare una bella spesa naturalmente ce l'avrete già tutte però sentito anche qualcuno dire che non erano buoni a me e vi ripeto se stanno addosso a me stanno addosso a tutti devo dire che reggono una botta mentre parliamo di Coco allora Coco è stata la mia anche questo il mio cioè io non so perché ma la Nabla fa dei colori che veramente mi entrano nel cervello e non se ne vanno Coco è stato come Anarchy mi era venuta una passione per questo colore pazzesca e qual è il problema di Coco il problema di Coco è che è molto più liquido degli altri e essendo forse un colore più scuro a me tende ad andare nelle righette tende a migrare un attimo quando lo do allora ora io volevo riuscire innanzitutto come vedete si seccano anche in fretta me lo vorrei dare sopra a questo giusto per farvelo vedere anche io sto imparando e a darmeli finalmente mi ha detto mi ha detto Allora Allora, allora Allora Questo tende Cioè guardate cosa non è A vederlo così può sembrare Uguale a tanti altri colori che ho Tipo Salem Tipo Witched DLS Flash Ma naturalmente io non me li ricordo Perché oramai è quasi Sei mesi che non li vedo No, sei mesi, non ho quattro tutti Ed è invece un marrone Favoloso Cioè è un marrone scurissimo Intenso Caldo Non è caldo È freddo scusate È un marrone freddo pazzesco A me mi fa impazzire Però L'unica pecca che purtroppo ha È che dovete stare molto attenti a darlo Perché è molto più liquido degli altri Io non so se è una questione Che è più liquido Oppure essendo più scuro Tende a Ma non credo Secondo me è più liquido Perché anche se gli altri Fossero Cioè Se era una questione di essere lipidi Anche gli altri Anche se erano Di colore più chiaro Comunque tendevano ad andare nelle pieghette Questo no Loro non lo fanno Mentre lui secondo me Tende ad andare nelle pieghe Quindi si può Per essere sicure Darlo o con la matita Ora è andata così Perché sotto avevo l'altro Che ha fatto presa Altrimenti ci vuole O una matita O partire dall'interno E piano piano Strabordare E andare dall'esterno Coco però A differenza degli altri Regge un poco meno Allora Quello che vedete qua È semplicemente Una questione di colore Quando vedete questa riga così È perché Il colore delle vostre labbra All'interno È rosso È rosa Quel che è E fa totalmente contrasto Con il colore esterno Non è che il prodotto Se ne va Però devo dire Che Coco A me Tende ad andarsene La Nabla Il problema che ho riscontrato io È nei colori scuri Perché appunto Avendo quattro colori Dei quali Due chiari E due scuri Sono gli scuri Che tendono a Galopparsene Quindi non lo so Comunque Coco Ha maggiore durata Rispetto ad Anarchy Allora Il problema di Anarchy È che io l'ho provato I primissimi tempi Che mi è stato regalato Da Paola Paola I love you so much E l'ho provato E probabilmente Non so se L'ho tenuto meno Non lo so Fatto sta che M'ero trovata bene Non avevo fatto caso A questa cosa È lo stesso con Coco Coco invece Me lo sono messo Tipo due giorni Prima dell'ultimo Dell'anno E ho notato Che comunque Tendeva ad andarsene Forse sono io Che qualche volta Ci sto più o meno Attenta Può essere anche questo Però Io non ricordo il prezzo Penso sia Sulle 14 euro Una cosa del genere Anche perché A me mi sono stati Tutti regalati da voi Anzi Credo tutti da Joja Da Joja A parte Anarchy Credo tutti da Joja Quindi Comunque il prezzo Dovrebbe essere Sulle 14 euro E qualcosa Per esempio A me la palette Di Nabla Non è piaciuta Per niente Io non avrei mai 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 Comprato la palette Di Nabla Perché aveva Un set di colori A me Non piaceva Quindi È una funzione Anche di gusti No Poi Le colorazioni Eccetera Però la durata Dei prodotti Io ho tante Sento che si trovano Comunque benissimo Con i Nabla Io devo essere sincera Sono dei prodotti Che mi piacciono tanto Anche perché Per 14 euro Anche se tende Leggermente ad andarsene Ve lo portate Allora A me non piace Portarmi il prodotto Dietro e poi ridarmelo Anche perché Non lo faccio Anche se l'ho in borsa Raramente Vado E me lo ritocco Quindi Me lo posso portare dietro Ma non lo faccio Però ecco Se il problema Deve essere quello Di un paio di righette Te lo ridai E festa finita Anche perché I colori sono talmente belli Che meritano Una palla Veniamo ad Anarchy Che è l'ultimo Nella ultimissima collezione Natalizia Io l'ho lasciato Nella sua confezioncina Ed è un regalo Di Paolina Come vi ho detto Paola Style Naturalmente Chi non la conosce La vado a guardare Perché Paola è Paola Cioè Paola è unica Allora Cambia il pack Che secondo me È molto molto più bello Il pack vecchio Di questo Ce la posso fare Ok Anche se lo sapete Io amo le stelline Non lo so Questo mi piace di più Allora Cosa è Anarchy? Anarchy è il colore più Bello E spaziale Che esiste sulla faccia Della terra Penso che per adesso C'è un Dream Girl Che non so se esiste davvero L'ho visto nei fake Ma per adesso Devo trovare Un prodotto Che labbra Ah no Già Gerard Gerard Cosmetics Ed è un viola Molto simile a questo Ecco a me piace Questi colori Cioè Sti colori Mi fanno un pazzo Ecco Gerard E questi sono i colori Più belli Che esistano Sua faccia Della terra Allora Anarchy È molto Molto Meno liquido Di cocò Anzi Cocò Tende proprio A fare la goccioletta Qua Se non ci fate caso Io di anzi O comunque anche ora Mentre me lo davo C'avevo il prodotto così Tende davvero A gocciolare Questo è Anarchy Che anche come stesura È molto Molto Diversa Si vede che hanno Cambiato formulazione Questi sono molto più liquidi Mentre A parte cocò Che è quello più liquido Però sono molto più liquidi Rispetto A questo Allora Il colore C'è ragazzi Ma lo vedete o no? Cioè Ma lo vedete com'è o no? Cioè Solo a me fa Questo effetto La densità è perfetta Perché Lo date piano piano Quindi non va a migrare Non va In vacanza Nel viso E ce la fate benissimo A darlo Senza che Bada nelle pieghe Questo è perfetto Purtroppo L'altra sera Me lo so date Ci sono rimasta Di merda Allora Voglio fare Questo appunto Non è che il prodotto Se ne è andato totalmente Anche nella foto Che vi ho messo su Instagram Si vede bene Il prodotto Era sempre lì Cioè Io Il colore Nelle labbra Si vedeva che c'era Però specialmente Nel labbro di sopra Qui Tendeva leggermente Ad andarsene Quindi cioè Non stiamo parlando Di prodotti Che non rimangono Sulle labbra E vi lasciano Le labbra Completamente Scaghiate Cioè O scacacchiate Sono dei prodotti E comunque Hanno Un'ottima Cioè Ci sono i prodotti Cioè Anche se se ne va Un pochino Il prodotto Vi rimane Quindi cioè Non andiamo a dire E a sparare Porcate Perché cioè Ribadisco Se reggano a me Però ecco Ci sono rimasta male Perché le prime due volte Che me le ero messo Ve l'avevo detto No non me lo davo Perché vorrei finirlo Cioè Pensate Il mio neurone Picciniero L'avevo proprio andato in vacanza In quei cinque minuti E Il colore Sì Ciao Ami Le prime due volte Non mi aveva dato problemi Mentre ieri Ci sono rimasta Di merda Non so se sarà una questione Che Non avevo Boh Mi sembra che non mi ero data Al fondotinta Più di tanto Oppure ce l'avevo Dalla mattina E ti può capitare Che magari sulle labbra Non hai niente Io ho le labbra Pessime Ultimamente Però mi sto facendo Un po' di scrub E quindi la cosa Sta migliorando Però avevo veramente Le labbra Screpolatissime Pessime Cioè Schifose Però ci sono rimasta male Perché qui nel labbro di sopra Comunque vedevi così Ecco Guardate Qui è soltanto Una missione Che non ho dato il prodotto Perché L'ho dato male Invece Aveva fatto Queste piccole scagliette Dove il colore Aveva Si era leggermente Sbiadito E Dispiace Dispiace Perché cassa è perfetto Il colore è perfetto È tutto perfetto La texture è perfetta Tutto E quindi dovrebbe Anche rimanere Però Devo essere sincera Che comunque Non demordo Ah Può anche essere Che mi ero data Troppo poco prodotto Perché questi sono Dei lip E comunque Le puoi benissimo Stratificare Come vedete Io ho due tinte Le puoi stratificare Benissimo Perché non vi creano Spessore sulle labbra Quindi cioè Ti fa capire Quanto sia Vellutato il prodotto E quanto sia Cioè Le fialette Va bene Costano un euro Ma vi faccio un esempio Anzi Gli L a splash Se le stratifichi Ciao Cioè Ti viene proprio I crettoni Quindi voglio dire Sono dei buoni prodotti A me piacciono Sono dei prodotti Validi E Mr. Daniel Il make up Ha fatto veramente Un capolavoro Sono stati bravissimi Colorazioni bellissime Con una passata in più Perché le prime volte Me le ero dato Un po' di più Io penso sia stato Proprio quello Comunque Vabbò Io mo Me ne vado a mangiare Vi ho detto Ciò che penso Fatemi sapere Nei commenti Ciò che pensate voi Se vi sentite Se vi siete trovate bene Cioè Ripetisco Non so Prodotti Che non ci rimangono Sulle labbra Ragazze Blu in arro Se ne va totalmente Eppure un cat fondi Cioè Ma di che si parla Quindi Fatemi sapere Se il trucco vi piace Mi raccomando Mettete sti like Perché non mi cacate mai Cioè Ma che problema ho Perché non mi mettete mai like Cioè Ma che so Io figlio di Maiala Cioè Scusate Ci sformo No Quindi dai Vi mando Un grande Un grande bacione Oggi ho fatto Un botto di video E E niente Spero che Passiate una bellissima serata Io vi mando Un bacio enorme Gigante Vi lobo Siete il mio più grande sostegno Siete La mia Più grande Passione Insieme al make up Fate brave Spippeggiate poco Ciao Amorine belle Ciao